ciao a tutti visto che siamo ancora in lockdown anche questa settimana non faccio esplorazioni però visto che ho notato che c'è un po' di confusione tra ville e castelli quando la gente va a fare esplorazioni passa per castelli quelli che sono ville e viceversa allora oggi vi faccio un video in cui vi spiego appunto la differenza fra castelli e ville e la cosa principale per capire qual è la differenza è spiegare come è fatto un castello e quindi partiamo con i castelli oh yeah i primi castelli come ne intendiamo noi nacquero alla fine dell'impero romano per difendersi dalle invasioni barbariche erano delle torri di vedetta costruite possibilmente in cima delle colline o delle alture con magari attorno dell'acqua in modo che rendessero difficile raggiungere la torre erano circondate da parizzate di legno e ospitavano giusto la guarnigione che doveva stare lì a fare da vedetta da guardia e a difendere quella postazione basta in seguito i castelli si sono ampliati pur essendo costruiti sempre di legno però hanno cominciato a avere solitamente all'esterno della torre in un altro recinto sempre fatto di legno delle case che servivano per ospitare le famiglie dei soldati stanziati nella torre di guardia un pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua quello c'era sempre e se la guarnigione si ampliava c'erano case anche per i soldati appunto per nuovi soldati e c'erano anche delle case che servivano come rifugi per i contadini in caso di assedio in modo che si potessero rifugiare lì dentro appunto con il tempo queste postazioni si ampliarono diventarono sempre più importanti fino a diventare le sedi le abitazioni dei feudatari che comparvero dopo la caduta dell'impero romano per prima cosa con l'ampliamento i castelli invece che di legno furono costruiti di pietra che era molto più resistente e sicuramente efficace in caso di incendio e comunque tutti i castelli avevano delle caratteristiche in comune prima di tutto erano circondati da mura difensive totalmente prive di finestre avevano qualche feritoia in modo da poter controllare l'esterno da poter magari lanciare qualche freccia verso i nemici in caso di assedio ma le mura erano difensive e meno apertura avevano meglio era lungo le mura a intervalli regolari c'erano delle torri più alte delle mura che servivano appunto come vedetta e per poter colpire gli avversari in caso di assedio da tutte le angolazioni perché mentre dalle mura si può sparare solo in avanti dalle torri si poteva anche lanciare verso i lati attorno alle mura c'era sempre un fossato a meno che il castello non fosse costruito in cima un dirupo inaccessibile però comunemente c'era un fossato riempito di acqua per superare il fossato l'unico accesso al castello era il ponte elevatoio che di solito era costruito tra due torri più grandi o dentro una torre più grande delle altre al cui interno c'erano altri sistemi difensivi tipo cancelli che si chiudevano cancelli di metallo e comunque il ponte elevatoio era l'unico accesso al castello sollevato quello non si poteva più entrare all'interno delle mura c'era una corte dove abitavano i contadini i fabbri tutta la gente che serviva per il funzionamento del castello e infatti oltre alle abitazioni c'erano fattorie e orti c'era sempre un pozzo magari anche più di uno se era possibile all'interno c'era un mulino c'era la sede del fabbro la sede del maniscalco ma la cosa più importante era la torre centrale che poi si è evoluta magari in castello ma all'inizio era proprio una semplice torre in cui viveva il feudatario e c'è da dire che all'inizio anche prima quando le torri erano fatte di legno la struttura di queste torri era su due piani c'era il piano terra per accogliere gli ospiti e dove dormiva la truppa di notte e al piano di sopra invece viveva il feudatario o il capo della guarnigione quindi erano proprio delle cose semplici poi in seguito si sono evolute diventando i castelli che conosciamo adesso comunque oltre a tutta la struttura con le torri le mura la corte e tutto il resto la struttura principale era la torre dove viveva il feudatario e anche questa torre o questo edificio perché non sempre una torre comunque questo edificio più importante l'edificio del feudatario aveva le sue torri più alte di quelle delle mura per poter fare da vedetta naturalmente e per poter lanciare frecce verso i nemici in caso di assedio se fossero entrati all'interno delle mura l'edificio interno era un castello a sé stante in pratica sulle torri di guardia e sulle mura c'erano delle merlature che non erano cose ornamentali erano fatte per potersi nascondere dietro appunto ai merdi i merdi che sono quelle cose che vengono in su e ci si nascondeva dopo aver lanciato la freccia sai io lancio la freccia il nemico me ne lancia un'altra e quelli erano i rifugi ideali appunto per ripararsi da frecce o altri oggetti lanciati dai nemici appunto in caso di assedio e attorno alle mura e su tutte le torri correvano dei camminamenti per poter raggiungere rapidamente qualsiasi punto del castello e come vi ho detto all'inizio le mura erano tutte senza aperture c'erano proprio poche feritoie giusto per poter spiare all'esterno e magari lanciare qualche freccia ma non c'era nessuna apertura in cui il nemico fosse potuto entrare facilmente adesso non sto a spiegarvi tutta l'evoluzione dei castelli perché poi si sono ingranditi si sono evoluti hanno avuto più cerchie di mura in modo da rendere sempre più difficile l'accesso ai nemici per passare le mura bisognava entrare da un accesso nella prima cerchia di mura poi girare fare tutto un percorso con sopra camminamenti dove gli abitanti del castello i soldati a difesa avrebbero potuto lanciare giù qualsiasi cosa frecce sassi olio bollente anche se lo usavano poco l'olio perché costava funzionava benissimo anche solo l'acqua calda l'acqua bollente lanciata addosso qualcuno con su un'armatura di metallo faceva benissimo il suo effetto risparmiando sull'olio che costava e era raro e comunque dopo questo camminamento bisognava passare la seconda cerchia di mura e se si riusciva c'era un altro camminamento per arrivare alla terza cerchia di mura o all'edificio principale dove ancora c'erano camminamenti in alto dove la gente poteva lanciare qualsiasi oggetto verso il basso insomma entrare in un castello era davvero difficile e mentre alcuni castelli si sono sviluppati in dimensioni fino a inglobare interi villaggi altri sono rimasti semplici semplici questo qui per esempio è castel del monte a andria in puglia che è proprio un castello a parte la costruzione originalissima che forse è l'unico al mondo così ottagonale con tutte le torri ottagonali però a parte quello per il resto è proprio un castello tipico come vi ho descritto è in cima alla collina è inaccessibile ha solo un ingresso è vero che non ha il ponte elevatoio però qui in cima alla collina è un po' duro far arrivare l'acqua e fare un fossato ma per il resto è un castello come vedete anche dall'alto si vede benissimo che già bisogna salire in cima alla collina ma poi è inaccessibile non ci sono proprio ingressi le prime finestre sono su a metri di altezza e entrare è impossibile invece come esempio di castello che si è espanso vi faccio vedere Carcassonne che è una città in Francia il cui castello si è sviluppato talmente tanto da inglobare tutto il paese e recintarlo tutto con due cerchie di mura e questo è proprio un castello nel vero senso del termine prima di tutto è costruito su una collina dalla parte dove non c'è la collina che è più in piano è stato scavato un fossato c'è un solo ingresso principale col ponte elevatoio ci sono addirittura due cerchie di mura tutte merlate tutte con le torri a intervalli regolari c'è la corte che è diventata un villaggio addirittura l'intero paese c'è il castello vero e proprio l'edificio dove abitava il feudatario c'è la chiesa insomma questo castello si era trasformato in un paese però pur essendo grosso così ha tutte le caratteristiche del castello si può sempre chiamare castello infatti è un paese fortificato che è un castello che comprende all'interno tutto il paese un altro esempio di castello vero e proprio è il castello di Fenis a Osta anche questo non ha aperture sulle mura le mura sono merlate tutte le mura anche all'interno hanno pochissime aperture giusto dalle feritoie e questo era proprio un castello nel vero senso della parola anche il castello sforzesco di Milano è un castello vero e proprio c'è il fossato è vero che ci sono delle finestrone sulle mura ma quelle sono state aggiunte dopo e comunque sono tutte ricoperte ed inferriate ma il resto delle mura ci sono feritorie e basta in cima ci sono le merlature e sotto alle merlature si possono notare delle aperture che servivano per buttare appunto acqua o olio o pece bollente giù in basso se i nemici fossero arrivati proprio sotto alle mura comunque ci sono le merlature anche ci sono ricoperte da tittoie però sono sempre merlature difensive ci sono le torri agli angoli c'è la torre centrale col ponte elevatoio insomma è proprio un vero castello anche il castello di Legnano molto più semplice ma è sempre un castello come vedete ci sono le merlature ci sono le torri agli angoli c'è la torre centrale con l'ingresso col ponte elevatoio che adesso non c'è più ma una volta c'era la parte a destra delle mura senza merlature è stata rifatta infatti si vede dietro anche l'edificio bianco rifatto ma tutto il resto è originale e si vede che è proprio un castello costruito su un'isola che sorge in mezzo a due rami del fiume Lona le mura non hanno nessuna apertura è un castello vero e proprio e poi ci sono le ville grandi, grandissime, immense che però non sono castelli ma vengono definite in questo modo anche se non sono castelli per esempio i famosissimi castelli della Loira non sono castelli sono ville per esempio il castello di Chambord uno dei più famosi come vedete non ha un fossato attorno non ha mura difensive non ha merlature i muri esterni sono pieni di finestre all'interno non c'è una corte dove potesse vivere la servitù o i maniscalco i fabbri o chiunque l'edificio centrale non ha sistemi di protezione anzi ha accessi comodissimi con porte e finestre non è proprio un castello un altro esempio sempre tra i cosiddetti castelli della Loira è il castello di Blois come vedete non ha nessuna caratteristica del castello non ha nessun sistema difensivo è tutto come porticati ornamentali scalinate ornamentali accessi ovunque da tutte le parti senza protezioni non è un castello questo è una villa sempre sulla Loira il castello di Shononso non è un castello l'unica parte che si può definire castello è la grande torre sulla sinistra ma tutto il resto è una villa ha accessi da tutte le parti finestre da tutte le parti non ha merlature non ha mura non ha nessun sistema difensivo non è un castello a confronto il castello Disney è un vero castello anzi anche senza confrontarlo questo è un vero castello anche se frutto della fantasia però questo è un vero castello come vedete ha le mura difensive con le merlature ha le torri merlate a intervalli regolari ha l'ingresso centrale dove ci dovrebbe essere il ponte elevatoio ma qui non c'è perché ha l'ingresso sull'acqua si entra in acqua però c'è una bella grata che scende giù per chiudere l'ingresso ha l'edificio centrale con tutte le torri e le merlature per difendere l'edificio stesso questo è un castello vero e proprio tutte le caratteristiche delle ville non ve ne sto neanche a spiegare perché penso che abbiate già capito che differenza c'è tra un castello e una villa quindi sarebbe bello che quando la gente va a fare esplorazioni in luoghi abbandonati sappia distinguere tra un castello e una villa anche se un posto viene chiamato castello quando non lo è spero di avervi chiarito qualche dubbio se avete qualche domanda scrivete sotto nei commenti intanto continuate a seguirmi sul mio canale youtube 2speedmusicandtravels iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbix mystery e escursione viaggi in kayak e ci vediamo al prossimo video oh yeah oh yeah